Filippo Melegoni, ben rientrato a Pescara, un periodo lungo, immagino difficile, forse anche formativo. Come è andata questa fase di rieducazione e di ritorno all'attività agonistica? Sicuramente è stato un periodo difficile, duro, però penso che sono questi i periodi che ti aiutano a crescere. Ho parato a conoscere meglio il mio corpo, a lavorare su diversi aspetti e ora sono felice di essere tornato al 100%. Se torniamo a quel mese di marzo, a quel grave infortunio, qual è il primo flash che ti viene in mente? Le tue prime emozioni nel guardare poi avanti? Sì, purtroppo è stata una brutta botta, mi ha creato il mondo addosso, avevo un mondiale da affrontare, avevo i play-off col Pescara. Purtroppo giocando a calcio sono cose che succedono, però bisogna guardare avanti, bisogna saper reagire subito in modo positivo all'infortunio e aggredirlo. Hai lasciato una squadra che poi è arrivata in semifinale play-off, la ritrovi con una partenza così e così, ma ora le cose vanno meglio. Che gruppo è? Il gruppo lo vedo molto unito, siamo una squadra sì giovane, ma anche con persone che comunque hanno esperienza e secondo me è il mix perfetto per poter fare un buonissimo campionato. Ecco, chiaramente la domanda è tra quanto ti rivedremo in campo? Beh, ora dovrò affrontare gli ultimi test, le ultime partitelle così, però ho già iniziato gli allenamenti con la squadra, faccio tutto con la squadra, quindi spero non questa partita ma magari la prossima. Io non vedo l'ora di rientrare, dare tutto per la maglia, la cosa che mi rende più felice al mondo è giocare a calcio, perciò non poterlo fare per otto mesi è stata lunga e ora non vedo l'ora di ricominciare. Il Pescara ha puntato su di te nonostante l'infortunio, cioè ha chiesto nuovamente il presto dell'Atalanta? Questo è stato uno stimolo molto importante, soprattutto nella fase del mio infortunio, sapere che c'era una squadra che voleva puntare ancora su di me nonostante quello che fosse successo, quindi mi ha aiutato a reagire ancora più forte e a allenarmi ancora più forte tutti i giorni per rientrare e dare tutto per Pescara che ha creduto a me.